Sì, almeno questa volta il messaggio si è trasmesso ai giocatori che in campo oggi hanno messo la determinazione giusta per vincere una partita che era importante per loro per la classifica e per noi per chiudere con dignità. Abbiamo giocato anche una buona partita, bene dal punto di vista difensivo, con poca rotazione perché avevamo molti veterani fuori, abbiamo fatto fatica anche questa settimana come purtroppo troppo spesso ci è capitato ad allenarci con continuità, però la risposta sul campo è stata anche premiata e quindi almeno abbiamo salutato il pubblico per quest'anno con una prestazione, con una vittoria e con una buona prestazione. Tu ci resta da Avellino perché quando sono tornato qui avevamo comunque in mente un progetto che non fosse finalizzato a una stagione sola e che quindi questo progetto va avanti anche se purtroppo i risultati sportivi di cui io sono sicuramente uno dei maggiori responsabili per il ruolo che ricopro non sono stati all'altezza delle aspettative, però faremo molto tesoro di questo e abbiamo purtroppo il vantaggio di questa volta di cominciare un po' più per tempo a programmare il futuro perché siamo a metà maggio, l'anno scorso abbiamo cominciato i primi di luglio e quindi possiamo per tempo andare a vedere quello che saranno gli obiettivi della prossima stagione, la squadra e tutto quel che ne consegue.